Grazie. Allora, se per favore ci accomodiamo, se gentilmente possiamo mettere in silenzioso i telefonini, in maniera tale di evitare che ci siano chiamate con squilli che disturbano. No, loro i telefonini non li dovrebbero proprio avere. No, ma mi riferivo alle persone in prima fila. No, no, ai ragazzi. So che i telefonini li devono consegnare, no? No, non li consegnano, ma non li hanno. No, ok. Perfetto. Allora, prego, i miei se mettono nel silenzioso i telefonini così non abbiamo squilli che disturbano. Allora, buongiorno a tutti. Possiamo iniziare questo importante incontro, questo importante convegno. Diamo un'ulteriore comunicazione di servizio. Il convegno, i lavori verranno registrati, per cui in particolare nel palco dei relatori, da cui vi parlo, ci saranno ovviamente le immagini che poi saranno pubblicate sui siti internet. Ma per tutti do la premessa appunto che c'è la registrazione di questo tipo di convegno. Allora, innanzitutto grazie. A questo istituto Volta è una scuola importante, un istituto tecnico che forma i giovani per le professioni future e in particolare per una specifica formazione e una specifica professione futura dal punto di vista tecnico. Questo quindi è molto importante. La scelta di venire a parlare di questi temi in questa scuola non è stata casuale. Grazie alla disponibilità della vostra preside, la dirigente scolastica, ai tempi in cui andavamo a scuola noi che abbiamo i capelli un po' più bianchi, chi un po' di più, chi un po' di meno, ma il colore è quello. Il dirigente scolastico veniva chiamato preside, adesso con l'ultima riforma, l'addizione invece è dirigente scolastico. Ed è una professione questa, manageriale, molto rilevante. Si dice sempre, perché magari spesso si parla più al negativo che non al positivo, che il pesce quando puzza, puzza dalla testa, dalla testa di comando, dal comando. Bene, se vale per la negatività, la puzza del pesce vale anche per la positività. Se il pesce non puzza e fresco, se una realtà funziona e funziona bene, beh, significa che al comando, alla dirigenza c'è qualcosa che funziona e funziona bene. Poi è ovvio che nessuno da solo riesce a fare assolutamente nulla, occorre avere un lavoro di gruppo e occorre far sì che in un gruppo tutti si remi verso la stessa direzione, in maniera tale di favorire e permettere quindi la possibilità di riuscire a fare un lavoro efficace. Questo vale anche per la scuola, questo vale anche per quanto riguarda appunto questa fase della vita. Vedete, io ho 62 anni e vi devo dire che se non avessi fatto con un impegno, quell'impegno che i miei genitori, i miei insegnanti mi spronavano ad avere per prepararmi al futuro, non avrei fatto e non sarei arrivato dove sono arrivato minimamente. Quindi oggi si gettano le basi per il proprio futuro personale e non solo per il proprio futuro personale, perché dal proprio futuro personale dipende anche il futuro degli altri. Se noi abbiamo delle situazioni positive di tipo personali, plasmiamo e portiamo positività anche alle altre persone, anche alla società, a partire dai gruppi che frequentiamo, i gruppi di amici, la classe, un domani il gruppo di lavoro, e il dipartimento dove lavoreremo, eccetera. Per cui non c'è e non esiste un individualismo sfrenato, portato. Vedete, non so chi è appassionato di calcio, ma Cristiano Ronaldo è certamente un bravissimo giocatore, ma se non avesse una squadra non riuscirebbe a realizzare quello che realizza. Faccio l'esempio di Ronaldo, ma lo possiamo fare di tanti altri giocatori bravi. Questo per quanto riguarda il gioco di squadra, ma anche per quanto riguarda lo sport singolo. Sinner, se non avesse tutta una serie di persone che assieme a lui, accanto a lui, quotidianamente, lavorano per poter ottenere e fargli ottenere quei risultati, non li otterrebbe. Per cui questi sono aspetti molto rilevanti che ho inteso in questa predessa trasmettervi per riuscire a fare una primissima introduzione, poi ne farò un'altra più tecnica rispetto all'incontro di oggi. Mi fermo per un attimo qui per dare la parola, per il saluto di indirizzo alla preside, alla professoressa Igea Cuccia, la vostra preside, che ringraziamo ancora per l'ospitalità. Prego, professoressa. Buongiorno a tutti. Sono contenta di vedere qui i miei ragazzi per questo incontro, per parlare insieme di futuro, il loro futuro. Ringrazio il dottor De Mele, il dottor Campello e il dottor Parravicini, che oggi parleranno della loro esperienza e vi trasferiranno attraverso il loro intervento le conoscenze, la loro professionalità, le competenze, che saranno per voi importanti, per voi giovani, che a breve vi appresterete ad entrare nel mondo del lavoro. ringrazio anche tutti coloro che sono qui presenti, le mie colleghe che sono intervenute qui per partecipare all'incontro. Lascio la parola a voi. Grazie ancora. Grazie. Grazie alla dirigente scolastica, professoressa Cuccia. Allora, veniamo nel merito di questo tipo di incontro. Innanzitutto il titolo. Formare, quindi formazione, con il passaggio, trasmettere, delle testimone. Quando c'è una gara a 4%, sappiamo esattamente qual è il testimone, quello che Tortull e Jacobs si passano assieme agli altri della staffetta, sono in quattro, non in due, neanche in uno, e si passano il testimone. Oggi parleremo del testimone dirigenziale. Perché? Allora, io sono il segretario di Cida, che è la Confederazione Italiana, per il Friuli Venezia Giulia, la Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità. Questa Confederazione racchiude una serie di federazioni, di associazioni sindacali. Feder Manager, che è l'associazione dei dirigenti delle imprese private industriali, quelle dell'industria. Manager Italia, abbiamo qui Sandro Caporale, uno dei relatori, Parravicini, Manager Italia, che raggruppa i manager, i dirigenti del commercio, dei servizi, del turismo. Poi questa Confederazione ha anche altre associazioni di tipo sindacale, dei medici ospedalieri, che sono dei dirigenti, dei dentisti, dei presidi, l'associazione nazionale presidi, i manager, appunto, della scuola. Tutta una serie di altre federazioni che si raggruppano in questa confederazione. Sono numerosi i dirigenti che aderiscono a tutte queste associazioni, sono circa 300 mila in tutta Italia, e questi numeri sono importanti. Questo significa che chi ha l'ambizione di diventare dirigente, coltivando questa ambizione, sin da giovane, lo può fare, lo può diventare. Le porte sono aperte, ma è necessaria soprattutto la prima parola, la formazione. Oggi, fino al giorno precedente all'andare in quiescenza, in pensione, quindi, una persona ha la necessità totale, continua, costante, coerente, di formarsi. E non solo formarsi dal punto di vista tecnico, specialistico, per arrivare a far sì che qualunque tipo di innovazione tecnologica, di novità, possa essere fatta propria e possa essere posta in essere, ma anche da un punto di vista di formazione di carattere generale, di cultura letteraria, psicologica, di formazione, di, per esempio, un dirigente o uno dei compiti che ha, è quello di organizzare il lavoro degli altri. Quindi psicologia di gruppo, motivazione, orgoglio, identità. Quando voi terminerete gli studi all'Istituto Volta, io vi auguro di poter dire a chiunque ve lo chieda, con orgoglio ho svolto il mio ciclo di studi professionali all'Istituto Volta. Questa è un'identità importante che deve essere valorizzata e portata avanti. Qui, con me, a cui passerò subito la parola, ci sono due manager che hanno svolto delle esperienze molto importanti. In particolare uno è in Crescenza, è il coordinatore degli amici di Confindustria Alto Adriatico che raggruppa le industrie di Trieste, Gorizia e Pordenone. ed è il dottor Luigi Campello. Poi avremo Mario Parravicini, che è un manager invece in servizio e ambedue vi potranno garantire e dare la loro esperienza. L'esperienza passata di un recente passato Campello, l'esperienza presente, quella di Parravicini, nei propri settori. Questo perché noi puntiamo, come Cida, a realizzare un progetto nel corso del 2024 che è quello di favorire la trasmissione dell'esperienza attraverso la formazione dai manager in Crescenza o prossimi alla Crescenza o non prossimi alla Crescenza ma che hanno delle cose da dire importanti sia agli studenti, sia ai giovani, sia agli universitari, sia a coloro i quali sono entrati nel mondo del lavoro, magari come quadri o come giovani dirigenti e potrebbero avere quindi delle opportunità formative sotto questo punto di vita. Desidero ringraziare voi ragazzi di essere qui presenti. Vi dico che oggi potrete, in particolare dai due relatori, arricchirvi di informazioni e di esperienza. Non sono una o due ore in cui non fate lezione in classe e in cui, vabbè, ci è andata bene. E' andata bene anche per quello perché alle volte avere un attimo di pausa va bene, ma cogliete, prendete appunti, prendete nella vostra testa, ma io vi auguro anche nell'animo e nel cuore l'esperienza che queste persone vi trasmetteranno. Oggi qui vedete in prima fila ci sono persone che la scuola l'hanno fatta parecchi anni fa e non si sono però dimenticati delle loro scuole, delle loro università. C'è il vicepresidente di Federmanager, Friuli Venezia Giulia, Giorgio Bacicchi. C'è il consigliere nazionale di Federmanager, Fulvio Sbroiavacca. Ci sono altri esponenti di Federmanager, Maurizio Decli, Franco Frezza, Edo Tagliapietra, Lorenzo Pieri, Dino Bacci. C'è il rappresentante di Manager Italia, Sandro Caporale. C'è il rappresentante dei maestri del lavoro, Roberto Gerini. Ecco, qualora poi al termine voi desideriate, perché magari qualcuno di questi vi ha suscitato appunto delle curiosità, li potrete avvicinare e rivolgere loro delle domande. In fondo abbiamo altre persone, Claudio Barbina, Marina Cucic, sempre di Federmanager. Si occupano di politiche attive del lavoro, di formazione, della segreteria. Per cui ci sono altre persone. Basta chiedere e potete avere anche dei colloqui personali con persone che possono ascoltarvi, ma anche e soprattutto dirvi qualcosa. Poi ho dimenticato qualcuno, tra quelli che sono nelle prime file, non me ne si voglia, ma ci sono anche altre persone delle associazioni che vi ho citato prima, presenti, Manager Italia e quant'altro, appunto disponibili in tal senso. Bene, detto questo, io credo di aver esaurito anche questa mia seconda presentazione e quindi passo la parola con molto piacere al dottor Luigi Campello, coordinatore del programma Amici di Confindustria Alto Adriatico. Prego, Presidente Campello. Grazie. Bene, allora, un grazie a chi mi ha introdotto a Daniele, un grazie per questo invito alla Cida, un grazie per questo invito a questa scuola. Capirete dalla mia storia quanto io sia sensibile e appassionato di sapere e quindi essere in una scuola così viva, così grande, con un senso di forza è un piacere. Corro perché i tempi sono brevi. Allora, formare con il passaggio del testimone dirigenziale, io sono qui per darvi testimonianze, per raccontarvi che cosa ho fatto, che cosa penso di dover condividere e trasmettere e lo farò a tre platee. Ecco, tenete sempre in conto che io qui ho tre target. Uno siete voi studenti, che vedo e quindi con cui mi rapporto anche proprio da un punto di vista fisico. Gli altri due target sono dietro alla telecamera e sono i giovani manager che vedranno questo film e sono i manager più di lungo corso che invece, secondo il programma Cida, hanno anche intenzione, desiderio, di condividere con i giovani tutto quello che è stata la loro storia e la loro esperienza. Detto questo, vi parlerò di cinque temi. Uno, vi racconto chi sono, per forza, si parte tutto dalla mia vita. Due, faccio un flash sulla vita familiare genitoriale perché è anche lì che il passaggio di testimone è importante. Tre, vi parlerò poi soprattutto dell'associazione Amici di Confindustria con cui Trieste, Gorizia e Portenone vogliono proprio entrare nel tema che ha sollevato prima Daniele. Diffondere una cultura d'impresa e favorire l'interscambio anche intergenerazionale. Vi parlerò poi, brevissimamente, se il tempo lo consentirà, delle altre due attività con cui io trasferisco oggi ai giovani la mia esperienza. Sono un business angel, non so se voi sapete cos'è, cioè sono una persona che segue imprese nuove, start-up, le assiste, le guida, investe anche su queste start-up. E ultimo, trasmetto la mia competenza, il mio sapere e le mie esperienze attraverso i Rotary. I Rotary è un'azione mondiale che ha lo scopo di favorire il benessere della comunità e in questo ambito c'è anche un progetto di supporto alle imprese, soprattutto di giovani. Bene, chi sono io? Allora, Luigi Campello, ho fatto un liceo scientifico all'antica, lo dico nei segnanti, dove ho imparato a impegnarmi molto nello studio, dove ho appreso molto cose, anche nozionistiche, di cui sono fiero, da dove sono uscito con una grande sicurezza nell'orientamento della vita. Dopo ho fatto ingegneria a Padova, mi sono laureato nel 1975, per un anno ho fatto l'assistente all'università e dopo sono andato a lavorare in una acciaieria. Allora, io sono ingegnere elettronico, voi direte, ma perché un ingegnere elettronico va a lavorare in una acciaieria? È difficile spiegarvelo. Dovreste entrare nel clima degli anni 70, dove la sociologia di fabbrica era un aspetto dominante della cultura e io avevo voglia di andare a vedere cos'era una tra le realtà industriali più forti, più caratterizzanti, tra altoforni e laminatoi. Imparai molto. Imparai soprattutto, se mi consentite di citare Socrate, di non sapere. Capì lì che cinque anni di ingegneria mi avevano dato un'eccellente preparazione scientifica, ma che un'impresa era qualcosa di più. vinsi il concorso per fare il Master in Business Administration all'Università Bocconi, lo feci, è stata un'esperienza arricchente perché è complementare con gli studi di ingegneria che mi ha aperto a tutto il mondo dell'impresa. Da lì sono arrivato in Friuli, in zanussi elettrodomestici che allora in quegli anni navigava in cattive acque, ma che dopo pochi anni fu acquisita da Electrolux. Ecco, qui fu la mia grande opportunità perché l'arrivo degli svedesi, la mia apertura al mondo, la mia voglia di cose nuove, la mia capacità di rapportarmi con gli altri mi diedero molte opportunità nell'integrazione fra il gruppo Electrolux e il gruppo Zanussi. Da lì la mia vita professionale è stata tutta nel gruppo Electrolux. Ho avuto sede di lavoro due anni a Stoccolma, due anni a Bruxelles, ho lavorato abbastanza anche nelle sedi del Giappone e di Singapore. Sono stato responsabile di prodotto, responsabile di pianificazione e delle strategie per l'Europa. Dal 2005 mi è stato offerto di assumere la carica di Direttore Generale per Electrolux in Italia che ho accettato con grande senso di responsabilità. Ecco, perché sappiate, e credo che anche Mario poi parli di questo, non erano affatto anni facili. Erano anni in cui la delocalizzazione creava importanti spostamenti di fabbriche verso altri mondi, nel caso dell'elettrodomestico verso il mondo dell'Europa dell'Est. Il compito mio fu, da un lato, di cercare di aumentare al massimo la competitività delle fabbriche italiane e laddove non fosse possibile di far pesare nel minor modo il sacrificio di chiudere delle produzioni. Fortunatamente dovetti chiudere solamente una fabbrica a Firenze di frigoriferi ma fu un successo di cui anche i sindacati ci sono sempre stati grati perché trovammo un altro imprenditore che continuò a produrre altre cose ma continuò a produrre garantendo quindi l'occupazione di tutti. Nel contempo ero vicepresidente dell'associazione nazionale del settore elettrodomestici e lavorammo anche lì intensamente con il mondo politico per migliorare il settore. Oggi le fabbriche di Electrolux in Italia sono ancora tutte e quattro sono le migliori fabbriche del mondo e questo è una soddisfazione di cui confesso sono grato. Bene finito il lavoro di manager finito il lavoro anche di manager dipendente ho cominciato a fare attività mie imprenditoriali attraverso nuove società ho fondato sono stato socio fondatore di di due start-up una nel settore automotive che è ancora viva una nel settore dell'agri-food che invece non ha avuto successo ma nella vita ve lo dico contano anche gli insuccessi insegnano anche quelli molto lavoro sono parte di IAG che è la più grande associazione di business anche in Italia assieme a Giorgio Costacurda che è qui e su di essa trasferiamo tutta tutta la nostra competenza dove però mi sto particolarmente impegnando è nell'associazione nel nel programma Amici di Confindustria a cui invito tutti studenti giovani manager che mi vedono in telecamera e manager di lungo corso quasi soprattutto a iscriversi e a diventare parte del nostro gruppo Amici di Confindustria cosa vuole essere Amici di Confindustria? allora quando mi chiedono cos'è Amici di Confindustria io cito sempre un famoso aforisma di Churchill 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 è noto per essere stato il primo ministro inglese nel periodo bellico ed ebbe un ruolo fondamentale nel motivare e nel organizzare gli inglesi a difesa della libertà in Europa ma Churchill ebbe un secondo mandato dal 51 al 55 erano gli anni in cui il miracolo economico post bellico cominciava a esplodere e in Inghilterra esplode anche prima che in Italia bene Churchill disse a un giornalista una volta ve la dico in italiano alcuni guardano le imprese come fossero una tigre da ammazzare altri guardano alle imprese come fosse una mucca da mungere pochi si rendono conto di quello che veramente sono le imprese il forte cavallo che tira l'intero carro the strong horse that pulls the whole car allora noi noi come Confindustria noi come manager siamo assolutamente consapevoli che l'impresa è il motore per il benessere della società ed è questo che con amici di Confindustria vogliamo consolidare diffondere vogliamo anche far conoscere la nostra realtà di imprese friulane invitando manager aprendo fabbriche a visite vogliamo creare tutta una serie di eventi anche con personaggi famosi con specialisti che aprano a questa cultura consolidano questa cultura diffondano diffondano questa cultura è anche un modo in questo gruppo che vorrà essere un gruppo interativo per realizzare quello che Cida si è posto come programma in un gruppo interativo dove giovani e meno giovani convivano e condividano il valore fondamentale del lavoro è più facile per i meno giovani trasferire ai giovani le loro competenze e le loro conoscenze ecco a chi si rivolge allora amici e confindustria certamente ai manager di lungo corso che abbiano voglia di continuare a vivere una cultura industriale ma anche di trasferire esperienze professionalità da conoscenze ai più giovani del gruppo ai giovani manager che possono fare gli amici di confindustria un luogo dove approfondire ancora di più la loro esperienza e la loro cultura professionale si rivolge agli studenti che ancora sono in fase scusate io chiudo ma agli studenti che ancora sono in fase come voi penso di orientamento e quindi possono trovare tutti i riferimenti tutte le conoscenze tutte le esperienze di cui hanno bisogno per conoscere meglio il mondo verso il quale vanno credo che sia tutto lascio a Mario la parola giusto? Bene grazie al dottor Campello l'ingegner Campello ci ha fatto una panoramica dal suo punto di vista il quale coordinatore del programma Amici di Confindustria non tralasciando ovviamente correttamente quella che è stata la sua esperienza personale ci hanno raggiunto al tavolo due dirigenti scolastiche Monica De Carolis presidente interprovinciale per Trieste e Gorizia dell'Associazione Nazionale Presidi e Daria Parma dirigente scolastica appunto che ci sono venute a fare compagnia e questo di questo siamo grati passiamo alla seconda relazione a quella di Mario Parravicini manager di FG Automazioni prova a vedere se il microfono funziona pronto a posto benissimo buongiorno a tutti io sono Mario Parravicini attualmente ricopro il ruolo di R&D manager presso la FG Automazioni innanzitutto volevo ringraziare tutti coloro che hanno organizzato questa giornata per l'opportunità che mi viene data oggi di parlare a una platea così splendida piccola sintesi di che cos'è FG Automazioni per dare un'idea dell'azienda nella quale opero FG Automazioni è un'azienda che dal 1988 realizza macchine automatiche e linee di assemblaggio speciali genera un fatturato di circa 20 milioni conta 130 dipendenti più una ventina di collaboratori esterni che lavorano praticamente comunque a tempo pieno per noi ha 5 sedi distribuite nel territorio nazionale ma la cosa più importante che da 3 anni investe mediamente dal 3 al 5% del proprio fatturato annuo in ricerca e sviluppo lo scopo del mio intervento oggi è quello di cercare di parlarvi dei principi e dei valori che mi hanno guidato nella mia crescita professionale e che hanno anche determinato un certo mio percorso carrieristico che ritengo permesso e soddisfacente prima di tutto io vorrei parlarvi dell'importanza del lavoro non avere pregiudizi scusatemi io perdono ho fatto un po' di caos ecco scusatemi ho una traccia la devo seguire non avere pregiudizi ad accedere al mondo del lavoro tutti i lavori sono un po' emozionato lo confesso non mi capita tutti i giorni di parlare davanti a una platea di persone che mi stanno ad ascoltare attentamente tutti i lavori sono nobili non esistono lavori di serie A e non esistono lavori di serie B il mondo del lavoro come le aziende sono degli ecosistemi nelle quali i ruoli sono interconnessi l'uno con l'altro il mondo del lavoro dà tante opportunità e io ho sempre pensato che accedere al mondo del lavoro da livelli anche bassi da ruoli modesti non è squalificante per le persone per l'esperienza che ho fatto io per la mia crescita solo fare esperienze multiple mi ha permesso di dare e avere una reale indicazione a quello che è stato il lavoro che più mi è diventato congeniale è più adatto a me vi faccio un esempio io appena mi sono diplomato sono un perito meccanico il mio ideale di lavoro era quello di entrare in un ufficio tecnico a fare progettazione meccanica alla fine il mio sviluppo carrieristico l'ho avuto nel settore commerciale un settore che io non avevo mai preso in considerazione durante il periodo scolastico ma questo ci sono arrivato attraverso degli step intermedi io ho cominciato la mia prima esperienza lavorativa come magazziniere in un'azienda che produceva macchine per la lavorazione del legno mi sono impegnato ho dato il massimo e dopo un anno mi sono trovato spostato nel reparto di produzione di assemblaggio e dopo un altro anno ancora che avevo imparato cos'erano i componenti cos'era il montaggio cos'erano le macchine che quell'azienda faceva allora in quel momento lì la proprietà mi ha portato in ufficio tecnico dopo questo ho avuto un'occasione attraverso un'azienda che era nostra fornitrice di ricevere una proposta di andare a fare il tecnico commerciale l'ho colta più per sfida che per convinzione e gli ho trovato la mia realizzazione l'ambiente più congeniale a me come vi ho detto qualsiasi ruolo qualsiasi lavoro si fa metterci il massimo dell'impegno un altro aspetto che ha caratterizzato il mio percorso è stata essere sempre modesto cercare di mantenere comunque sempre un'apertura e un atteggiamento aperto al confronto e tante volte anche a quello che può essere una critica che ci viene fatta per un qualcosa non temere di ammettere di non saper fare le cose non aver paura di chiedere aiuto nei momenti in cui ci si trova a dover svolgere qualcosa che esce fuori dalle nostre esperienze esce fuori dalle nostre capacità chiedere domandare appoggiarsi all'esperienza degli altri guardate che tuttora anch'io dopo 40 anni quasi di lavoro quando devo prendere delle decisioni quando devo determinare certe strategie quando devo assumere delle persone mi rivolgo e comunque mi confronto con i miei colleghi e mi confronto con la proprietà e mi confronto con le persone che in quel ruolo ritengono abbiano più esperienza di me poi un'altra cosa molto importante è stata aver sempre tenuto un atteggiamento di rispetto ed educato ho cercato sempre di mantenere un atteggiamento positivo e di creare dei rapporti cordiali e di rispetto reciproco con i miei collaboratori e con i miei colleghi questo ve lo dico perché perché il mondo del lavoro è un mondo dinamico molto dinamico per cui quello che oggi è un vostro collega domani potrebbe diventare un vostro responsabile e viceversa ma l'avere saputo creare armonia facilita e rende molto facili questi passaggi qua non crea tensioni sono stato testimone io in un'azienda dove ho visto posso dire i miei colleghi venditori che facevano parte di team diventare capoaria e immediatamente come diventati capoaria cominciare a dire quel mio collega adesso lo faccio morire non è un atteggiamento positivo è un atteggiamento distruttivo ma questo perché tra le persone non si era creato un'interazione non si era creata un'armonia io quando penso a questo faccio penso a una metafora che quella dell'orologio dell'orologio di quelli non al quazzo ma di quelli automatici un orologio automatico segna precisamente l'ora solo se tutti gli ingranaggi che si muovono al suo interno sono sincronizzati si muovono alla perfezione quando solo il più piccolo degli ingranaggi rallenta l'orologio perde l'orario e generalmente sta indietro invece che andare avanti ed è quello che succede nel mondo del lavoro quando non c'è armonia la gestione di un gruppo essere a contatto con le persone la gestione di budget è difficile proprio per questo perché basta che all'interno di questo gruppo o di questo team ci sia una persona scontenta o ci sia una persona che vi rema contro che rende difficile il rapporto con tutti gli altri a di là di questo un'altra cosa importante è non aver neanche paura di essere intraprendenti di non temere di esprimere un parere o di esprimere la propria idea ai propri colleghi o ai propri superiori comunque un consiglio se vogliamo evidenziare delle problematiche come ho detto a colleghi o ai nostri superiori o ai nostri collaboratori cerchiamo di farlo solo se si è pensata anche una soluzione un'idea o una proposta accompagnata da una motivazione acquisiscono credibilità e la stessa credibilità che acquisisce quell'idea l'acquisisce anche chi la propone o chi la solleva sollevare problematiche di per sé sterili non porta a nessun risultato e non porta a nessun valore aggiunto né per chi li solleva né per chi le sta ad ascoltare dopo un altro aspetto che è stato molto importante e che è uno slogan in tante aziende che è uno slogan in tanti corsi che è quello del miglioramento continuo io non ho cercato il meno possibile di crearmi delle aree di comfort e cosa voglio dire che ogni avanzamento di carriera che ho fatto ogni avanzamento di ruolo che ho avuto la possibilità di fare non l'ho mai vissuto e visto come un punto di arrivo ma l'ho sempre considerato come un nuovo punto per ripartire sono sempre stato attento a ciò che mi accadeva intorno non mi sono seduto e ho detto bene sono arrivato è importante saper cogliere i cambiamenti che accadono intorno a noi e tenere presente che le crescite professionali non si fanno solo ed esclusivamente cambiando lavoro ma si possono fare anche all'interno dell'azienda per la quale si sta lavorando della struttura per la quale si sta operando se si lavora e si sanno cogliere le opportunità che si presentano un altro aspetto è quello di mantenersi sempre informati e al passo con le tendenze cogliere quello che succede sul mercato cogliere quello che succede sull'evoluzione della tecnologia non attendere se si ritiene opportuno di crescere facendo formazione è una cosa vi dico nel mondo del lavoro non sempre le aziende sono strutturate per fare la formazione non sempre le aziende hanno il dovere di fare formazione quindi se si ritiene opportuno che determinate skill le dobbiamo assorbire organizziamoci per fare autoformazione gestiamoci noi la formazione vi faccio un altro esempio mio personale io ho lavorato 16 anni come commerciale in un'azienda giapponese dopo tre anni e mezzo che ero stato assunto sono diventato capoarea essere diventato capoarea mi ha permesso di poter poi confrontarmi essendo un'azienda piramidale con il middle management che stava un gradino sopra di me e frequentandolo mi sono accorto che tutti questi manager parlavano perfettamente l'inglese e perché lo parlavano perché essendo una multinazionale avendo sedi sparse in tutta Europa in tutto il modo quello era l'unico modo per poter comunicare con i colleghi delle filiali di fuori dell'Italia io in quel caso lì non ho aspettato che l'azienda mi dicesse Mario vuoi fare un corso facciamo un corso d'inglese no ho ritenuto che quello fosse uno degli aspetti più importanti per continuare a fare un salto una progressione professionale mi sono iscritto autonomamente in successione a due corsi d'inglese fino a quando mi sono sentito padrone della lingua e poi si è verificato che come vi ho detto il mondo del lavoro le aziende sono dinamiche riferendomi al discorso della delocalizzazione che quando c'è stata la necessità da parte dell'azienda di selezionare un manager che andasse in Romania in questo caso a creare una rete di vendite a gestire i rapporti tra la filiale italiana e le aziende multinazionali che avevano delocalizzato in quell'area per loro la scelta è stata facile è stato Mario ma Mario perché? perché Mario si è impegnato Mario aveva creato un gruppo di venditori al tempo gestivo sette venditori che vivevano perfettamente in armonia quindi anche la mia mancanza per brevi tempi non avrebbe creato problemi all'azienda Mario conosceva il prodotto e soprattutto Mario sapeva l'inglese se io non avessi fatto quel passo mi sarei trovato sì a essere un capoarea ma un capoarea che avrebbe continuato a lavorare nel suo piccolo orticello sul territorio nazionale tra l'altro l'opportunità di essere andato a lavorare in Romania mi ha proiettato ulteriormente in un scenario ancora più ampio di opportunità perché mi ha proiettato ad entrare in contatto con allora il management ancora più alto delle altre consociate e mi ha permesso di partecipare a gruppi di lavoro che decidevano di strategie commerciali e strategie di vendite non più a livello nazionale ma a livello europeo dico solo una frase non mi piace parlare con slogan ma questo è uno slogan che mi ha coinvolto e mi è piaciuto tanto il futuro è nelle mani di chi lo sa anticipare quindi è importante saper cogliere come dicevo le evoluzioni i cambiamenti che stanno succedendo e cercare di anticiparli cavalcarli e cercarli di anticiparli adesso faccio solo un piccolo così cenno a un altro argomento che mi tocca anche direttamente adesso siamo in un grande momento epocale dove con l'avvento dell'intelligenza artificiale tutto sta cambiando tutto sta accelerando in questo caso qui vediamo che c'è il rischio e la tendenza di adagiarsi su queste nuove tecnologie invece no consideriamo che il ruolo dell'uomo anche nell'era della tecnologia dell'intelligenza artificiale resta e sarà di fondamentale importanza la sinergia tra l'automazione di certi meccanismi che dà l'intelligenza artificiale e l'emotività e la capacità di interpretazione che abbiamo noi esseri umani sarà la possibilità di trovare soluzioni innovative e più efficaci che possono portare solo oltre a maggiore produttività anche a un benessere generale di tutti quanti anche in questo caso vi dico che la la tecnologia è utile all'uomo solo se ne è al suo servizio per cui invito tutti a non esserne attori passivi io con questo avrei concluso vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un sincero un boccalupo per tutte le sfide che andrete ad affrontare vi ringrazio e mi scuso ancora per l'emozione ma sono una persona emotiva e quindi grazie 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 Mario parla di Ciri bene allora abbiamo ascoltato questi due interventi molto rilevanti importanti rispetto alle presentazioni rispetto al tema che oggi abbiamo la volontà di sviscerare di approfondire di affrontare la preside mi diceva che qualcuno nei giorni scorsi si è predisposto delle domande se ho capito bene da porre su questo tema basta alzare la mano vi raggiungiamo col microfono in maniera tale di poter avanzare appunto la domanda sì un microfono prova prova allora vi siete preparati qualche domanda chi rompe il ghiaccio forza allora chiedo l'aiuto anche degli insegnanti se per favore possono individuare chi aveva predisposto ecco prego così raggiungiamo col microfono magari se per favore dite anche il vostro nome di battesimo in maniera tale che ci si conosce un attimo di più prego facciamo silenzio per favore permettiamo sono Giovanni Pileri terza F e volevamo sapere quali potrebbero essere delle nuove opportunità che si potrebbero creare dopo l'implementazione dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro perché impatterà sicuramente appunto questo mondo e eravamo curiosi su questa su questo tema perfetto grazie raccogliamo ancora altre bravo di qui abbiamo qualche domanda in quest'ala vi siete preparati c'è qualcuno qui avete visto il vostro compagno non lo mangiamo perché ci piace mangiare qualcos'altro quindi non è un problema qui nella nell'ala centrale c'è qualcuno con qualche domanda pronto insegnanti riuscite a far alzare qualcuno così li raggiungiamo col microfono bene c'è qualche altra domanda sì lì al centro forza raggiungiamo non abbiate paura diceva un grande personaggio Papa Vojtyla prego un momento che c'è un po' di dubbio una domanda collettiva così poi vediamo di farla presentare a uno forza preparatevi anche qui una domanda eh ragazzi qui preparatevi una domanda insegnanti se possiamo favorire una domanda ci siamo pronti magari si riesce ad alzare i piedi per favore dire il proprio nome sono Andrea forza Andrea allora la domanda è se voi dovreste ricominciare la propria carriera lavorativa con la conoscenza e le esperienze che si è ehm si è appresi adesso cambiereste qualcosa sarebbe diverso con avendo adesso la consapevolezza di aver vissuto perfetto grazie della domanda molto bene preparatevi una terza domanda qui che dopo vediamo di fare una terza e una quarta domanda quindi ancora due domande mi attendo chiedo soprattutto agli insegnanti visto che è stato chiesto di predisporre e le due domande sono intelligenti no? di favorire appunto altre due domande intanto se riusciamo a fare un po' di silenzio per favore se riusciamo a fare un po' di silenzio per favore andiamo con le due risposte allora intelligenza artificiale su cui poi ehm coinvolgo anche un'altra persona dal pubblico che può certamente dare delle eh delle risposte molto molto precise no? eh Parravicini vuoi dire tu qualcosa? scusa prego allora relativamente Giovanni relativamente alla tua domanda allora io posso darti una risposta eh in base a quella che è la mia esperienza attuale come ho permesso prima io sono un perito meccanico che sta approcciando anche lui anch'io a queste nuove tecnologie e quindi sto facendo una mia operazione di reskill e di upskill per adattare quello che era il mio formamento mentale ecco che cosa vuol dire queste frasi in inglese voi sapete che cosa vuol dire? sì? guarda che te vengo a chiedere eh chi dice di sì sapete cosa vuol dire? dillo in italiano spiegano bene upskill e reskill upskill vuol dire migliorare la famosa si ricollega al miglioramento continuo continuare a migliorarsi continuare ad incrementare le proprie competenze reskill vuol dire acquisire competenze nuove in altri ambienti e in altri settori quindi rivedere completamente quello che è la propria formazione professionale piuttosto che culturale ok tornando alla risposta l'intelligenza artificiale è una nuova rivoluzione industriale e come tutte le rivoluzioni industriali che ci sono state che si sono susseguite nelle varie aeree porterà sicuramente a degli scompensi in termini di competenze ci saranno sicuramente delle competenze che andranno a scemare che andranno a decadere ma ci saranno tante altre opportunità tante altre figure professionali che verranno richieste ultimamente la comunità europea ha scritto la IACT cioè un regolamento che determina che mette dei limiti e dei paletti allo sviluppo di queste intelligenze artificiali scusate sbagliato non lo sviluppo all'utilizzo di queste intelligenze artificiali perché si sono riscontrati con l'avvento di queste chat open chat GPT piuttosto che altre delle situazioni che hanno che creano e hanno creato anche problematiche giuridiche non indifferenti quindi le figure professionali che saranno legate al mondo dell'intelligenza artificiale saranno tutte quelle figure che opereranno all'interno di essa ne comprenderanno lo sviluppo quindi conosceranno il sistema il metodo l'algoritmo come ragiona di quell'intelligenza artificiale e saranno coloro che la destreranno quindi saranno figure di prompt designer saranno figure di ingegneri saranno figure anche polivalenti multiculturali perché saranno quelle che poi avranno la responsabilità di dare un'impostazione etica a questa nuova tecnologia questo è quello che io ti posso dire per quella che è la mia esperienza in questo ambiente fino adesso spero di essere stato soddisfacente grazie Mario sentiamo anche Luigi Campello sempre su intelligenza artificiale poi sentiremo il parere di Fulvio Sbroiavacca consigliere nazionale e dirigente fino a un anno fa all'Inseel dove qui in Friuli Venezia Giulia è nata l'intelligenza artificiale prego poi facciamo la domanda grazie Campello allora come detto Mario prima ogni rivoluzione industriale e ne abbiamo contate cinque finora siamo siamo adesso nella quinta ha sempre ha sempre cambiato il mondo non è mai successo niente il benessere è sempre aumentato l'occupazione è sempre aumentata se io posso davvero darvi darvi un consiglio della mia esperienza dei miei studi è che c'è solo un imperativo categorico studiate 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 la differenza con le precedenti rivoluzioni industriali è che i tempi si accorciano allora una volta se un ingegnere un tecnico era in sintonia con i tempi non aveva problemi per tutta la vita adesso un tecnico un ingegnere non sarà mai in sintonia con i tempi se non per pochi anni quindi quello che gli inglesi chiamano il continuous learning cioè l'apprendimento continuo deve essere un vostro pensiero fisso è un imperativo categorico che ho dato ai miei figli e che do anche a voi molto volentieri non abbiate resistenze non abbiate pigrizie a continuare ad aggiornarvi continuamente secondo McKinsey che è forse l'ottore di consulenza più importante più attento più approfondito al mondo l'occupazione con l'intelligenza con l'intelligenza artificiale dovrebbe aumentare ma qual è il problema che le competenze necessarie per coprire i nuovi ruoli probabilmente non ci saranno ecco cercate di occupare quelle competenze che mancano Fulvio Sbroia Bacca se posso se posso solo un inciso su quello che ha detto Luigi a riguardo le competenze e le competenze che mancano da un'analisi fatta a livello europeo allo stato attuale mancano un milione e 600 mila figure professionali in tutta Europa capaci di lavorare nel mondo dell'IT e della cyber security questo è un dato che dovrebbe farvi riflettere grazie scusatemi se mi sono qui dunque intelligenza artificiale la domanda era cosa succede adesso no? o cosa può interessare a voi per il vostro futuro allora c'è un aspetto dell'intelligenza artificiale che sta diventando sempre più importante e che nel prossimo decennio sarà fondamentale per le imprese sarà fondamentale anche per ognuno di noi intesi come persona e questo è il digital twin o gemello digitale che si dica non è una cosa che è nata ieri pensate che dove dove ha origine il gemello digitale allora è successo durante la missione dell'Apollo 13 dove sapete stava accadendo un disastro che cosa si sono inventati gli ingegneri della NASA si sono inventati un corrispettivo digitale a terra della navicella che stava lassù e con questo corrispettivo hanno studiato la situazione e hanno trovato il modo di far tornare giù quelli astronauti che altrimenti non sarebbero tornati giù è nato lì il gemello digitale quindi sono passati tanti anni perché adesso il gemello digitale sta diventando sempre più importante perché come vale per tutta l'intelligenza artificiale questa si alimenta di dati i dati fino a poco tempo fa c'erano ma non erano sufficienti per sviluppare un'intelligenza artificiale di un certo livello oggi i dati ci sono ce ne sono fin troppi per certi aspetti sappiamo che è difficile selezionare i dati che ci servono veramente allora i dati dicono che sono un nuovo petrolio semplicemente i dati sono sicuramente quello che sta cambiando il nostro modo di vivere noi possiamo accedere a una quantità di dati che nessuno prima di noi poteva solo immaginare di avere a disposizione allora questo connubio di dati che alimentano quello che sarà il gemello digitale nei prossimi anni creerà delle nuove professioni ve ha già create molti dicono che l'intelligenza artificiale sarà un disastro dal punto di vista dell'occupazione e non è così soprattutto per voi non è così lo può essere per chi è già nel mondo del lavoro e può uscirne perché non riesce a formarsi adeguatamente ma voi dovete fare delle scelte dovete fare delle scelte oculate in questo senso allora ci sono delle nuove professioni per esempio chi tratta questi dati i data science chi ha la capacità con degli strumenti informatici di tirar fuori informazione dai dati perché scusate il dato è una cosa e l'informazione è una cosa diversa il dato è un qualcosa di oggettivo oggi siamo qua siamo il 12 mi sembra giusto il 12 è un numero ma che cosa significa il 12 in questo contesto significa che siamo qui oggi perché è il giorno 12 aprile ma il 12 per ognuno di voi può avere un significato diverso quindi l'informazione è qualcosa che si nutre del dato ma nel contesto assume un significato e il digital twin nei prossimi anni come dicevo prima sarà fondamentale per le aziende perché il digital twin è la versione digitale come avveniva nel primo caso dell'Apollo 13 di un prodotto o di un processo all'interno di un'azienda prodotto o processo che in quanto digitali in quanto virtuali consentono di verificare il funzionamento prima ancora di avere l'oggetto fisico talvolta quindi costruirlo nella maniera più appropriata oppure sapere quando bisogna manutenerlo oppure capire cosa bisogna fare ultima ultima cosa che voglio dirvi c'è anche un aspetto che riguarderà tutti noi come individui perché il gemello digitale entrerà nella nostra vita dal punto di vista della salute della sanità perché accadrà che ognuno di noi entro cinque anni molti di noi avranno un loro gemello digitale e questo gemello in qualche modo ci aiuterà per esempio ci metterà nella situazione di far assumere al nostro gemello digitale una determinata insieme di per esempio medicine che possono risolvere una certa situazione sanitaria per vedere se queste possono essere dannose o positive nel caso specifico quindi immaginate cosa può cambiare questo e quali opportunità dal vostro punto di vista può creare nella vostra futura nel vostro futuro ingresso nel modo di lavoro grazie bene la seconda domanda molto molto anch'essa molto interessante di tutt'altro tipo non prospettica dal punto di vista tecnico ma prospettica dal punto di vista delle dei contenuti delle pro esperienziali e quella se arrivati dove siamo arrivati potendo tornare indietro sostanzialmente se rifaremmo quello che abbiamo fatto o se cambieremmo qualcosa pare vicini va bene allora Andrea se riguardo e ripercorro il mio passato e quant'altro due cose cambierei se potessi ripartire la prima è non fermarmi come mi son fermato io al semplice diploma no perché attenzione non fraintendetemi non fraintendermi la semplicità del diploma però pensandoci un percorso universitario sarebbe stato avrebbe accelerato determinati processi del mio percorso evolutivo però erano tempi anche dove il lavoro lo trovavi immediatamente e quindi non eri neanche più di tanto stimolato a proseguire con gli studi il secondo punto che cambierei sarebbe il periodo che ho fatto di 16 anni all'interno di una multinazionale perché mi sono lasciato coinvolgere da quell'ambiente ed è stato un ambiente che mi ha ovattato dove la multinazionale dove ho lavorato io tendeva a chiuderti a isolarti dalle altre opportunità ti faceva crescere internamente ma ti isolava dalle altre opportunità e quindi tornando all'intervento che ho fatto lì veramente ho trovato una zona di comfort dove mi sono fermato e lì ho perso degli anni importanti per tenermi aggiornato e poi ho dovuto successivamente mettermi in una rincorsa per il resto non cambierei nient'altro ripartirei a fare le esperienze che ho fatto ripartirei dal basso ripercorrerei tutto quello che ho fatto tranne questi due aspetti qua campello vi racconto un aneddoto della mia vita finito il liceo quindi più o meno alla vostra età erano anni gli anni sessanta il sessantotto quindi l'ideologia dominava lavorare per il bene dell'umanità era obiettivo di tutti io ero incerto se appunto lavorare per il bene dell'umanità sarebbe stato giusto per me farlo come scienziato o farlo come come manager siccome non sapevo scegliere decisi di fare il concorso per una laurea in fisica alla normale di Pisa arrivai tredicesimo feci l'esame con il celeberrimo professor Zecchichi di fisica arrivai tredicesimo entravano solo i primi dieci e così approdai alla facoltà di ingegneria a Padova non sono affatto cioè voglio dire non so quale sarebbe stato il mio futuro come fisico come penso docente universitario e così via ma non sono affatto dispiaciuto di avere intrapreso la vita da ingegnere bene allora ci sono due domande una era qui al centro le ultime due forza e una mi pare di là può essere di là ok sbagliamo direzione prova forza buondì sono Ludovico quindi è stato parlato di ciò che bisognerebbe evitare e la mia domanda è per un giovane lavoratore quali sono gli errori più comuni che vengono effettivamente commessi bene se quarta e ultima domanda dove siamo qui al centro mi era stato detto prima no di nuovo a destra qui ha vinto la destra allora la sinistra è andata a gobba e il centro una piccola presenza bene forza quindi la mia domanda da parte della terza G sì sono Nicola sono Nicola la domanda che mi hanno che viene però stiamo in silenzio per favore perché se no non si sente io capisco un po' di come dire difficoltà magari nell'alzarsi nel fare la domanda ma proprio per il rispetto ecco per esempio inizio a dare una risposta alla domanda precedente quali sono gli errori che non devono essere fatti non bisogna mai mancare di rispetto a nessuna persona il rispetto verso gli altri è importante se io adesso chiacchiero chiunque io sia io che sono qui sul palco insegnante relatore oppure studente se chiacchiero mentre uno con difficoltà e con coraggio difficoltà perché c'è un po' di imbarazzo alzarsi in piedi dire il proprio nome ancora di più perché l'ho interrotto e lui è rimasto correttamente con rispetto in piedi bravo bravo bisogna avere rispetto e stare in silenzio perché quello che io devo dire alla preside cuccia magari se glielo dico dopo al termine di questo incontro non cambia nulla l'unica tempestività è quella del pronto soccorso medico lì devo mollare tutto e intervenire i medici ospedalieri me lo dicono me lo ripetono lo si capisce molto intuitivamente lì lì devo intervenire qui no il chiacchiericcio che c'è stato durante queste due ore il chiacchiericcio di fondo che si è sentito qui non è un rispetto allora quello che si deve fare è portare rispetto per gli altri e per se stessi prego la domanda quindi la domanda è come fa il datore di lavoro a creare un ambiente di lavoro piacevole per i propri dipendenti bella domanda molto molto bene allora andiamo con le due domande e con le risposte iniziamo da campello questa volta allora che gli errori da non fare come lavoratore e invece quindi prima parliamo del lavoratore poi il datore di lavoro che cosa deve fare il datore di lavoro per creare un ambiente gradevole allora gli errori credo di avervi dato il messaggio forte anche prima secondo me l'errore più grande è quello di credere che dopo il diploma entriate in quella che gli inglesi chiamano la comfort zone cioè una zona di tranquillità ho finito di studiare di rompermi le palle adesso vado a lavorare e basta non sarà mai così voglio dire non lo era già più ai miei tempi lo è stato sempre meno adesso non lo è proprio allora vi ho detto prima studiate 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 non sarà mai finito e ancora adesso aggiungo siate sempre aperti e credo che l'esperienza e la storia di Mario ve l'abbia detto a qualunque nuova esperienza vi capita non abbiate paura come ha detto come ha detto Daniele ma soprattutto abbiate il coraggio e l'entusiasmo di affrontare qualunque esperienza nuova vi capita apritevi al mondo apritevi al mondo anche con le lingue il mio figlio più grande ha finito gli studi in California Anna che è medico lavora a Londra il piccolo che è ingegnere adesso è in Francia a fare un dottorato di ricerca li ho spinti tutti nel mondo a conoscere il mondo a farsi tutte le esperienze possibili seconda domanda era ah il dettore di lavoro allora potrei dirti le sette S di McKinsey cosa deve fare il dettore te ne dico solo una ti cito una canzone di Giorgio Gaber Giorgio Gaber è un cantante dei miei tempi ma foge cos'è la libertà libertà è partecipazione allora secondo me la cosa più importante che un manager deve fare è fare sentire ogni membro del gruppo decisivo nel gruppo stesso deve riuscire a far partecipare ogni membro del gruppo della sua organizzazione alla vita dell'organizzazione deve creargli un senso di responsabilità nel lavorare ma nel contempo anche gratificarlo nel fargli capire che l'organizzazione senza di lui non andrebbe avanti libertà e soddisfazione e motivazione sono partecipazioni parla vicini allora Ludovico se non sbaglio no uno eh condivido pienamente quello che ha detto Luigi però aggiungo che uno degli errori che fa generalmente un giovane lavoratore e io l'ho vissuto perché ho avuto anche l'opportunità eh di sette anni dove ho ero socio in un'azienda quindi ho gestito anche le risorse umane e è quello di eh entrare come dicevo nel mondo del lavoro non con modestia non con la mente aperta ma entrare nel mondo del lavoro con la presunzione di sapere questo è uno degli errori che più eh almeno io personalmente ho riscontrato e dopo così mi permetto di dare un consiglio eh io ho fatto anche molti colloqui eh e sinceramente mi sono trovato di fronte eh delle risorse anche valide ma che al momento del colloquio non avevano neanche idea di con con chi stessero parlando ma non come persona eh come azienda a che tipo di azienda stavano approcciando anche in fase di colloquio informatevi c'è internet che è un mezzo straordinario su internet trovate tutte le informazioni andate informati su chi e che cosa fa l'azienda alla quale vi propomette o che vi ha proposto un lavoro questo per quanto riguarda eh Nicola un datore di lavoro può creare benessere nel momento in cui però il rapporto con i propri collaboratori è bidirezionale non può essere eh un atteggiamento non può essere un uno sforzo fatto unilateralmente ci deve essere anche dall'altra parte la comprensione dello sforzo che viene fatto e la condivisione dello sforzo che viene fatto quindi giustamente un manager un datore di lavoro deve essere capace di creare l'ambiente deve essere capace di individuare sui propri collaboratori le specificità migliori le capacità migliori e farli crescere ma dall'altra parte bisogna pensare che non è un tutto dovuto ma bisogna anche collaborare per creare un ambiente positivo nel mondo del lavoro bene vorrei coinvolgere così come ho fatto prima con un rappresentante di Feder Manager Sandro Caporale di Manager Italia rispetto a queste ultime due domande con mi ha molto colpito la domanda sugli errori da non commettere voglio a questo proposito mentre ti prego di avvicinarti Sandro dire che all'interno di Cida di Feder Manager e di Manager Italia esistono persone che vanno nelle scuole per esempio Dino Bacci che per riuscire a favorire l'elaborazione di un curriculum la presentazione a un colloquio di lavoro l'approccio da avere quindi tutta una serie di aspetti importanti anche in inglese che vengono posti in considerazione per quanto riguarda questi aspetti queste sono informazioni che voi potete avere da noi al termine di questo incontro così come all'uscita avete del materiale ci saranno delle persone le riconoscete perché sono più grandicelle di voi più adulte e quindi fisicamente le riconoscete e potete rivolgervi a chiunque di loro per avere informazioni anche rispetto apportato del materiale all'associazione Amici di Confindustria come ci si associa e quello che appunto lì avete tutte le informazioni quali sono gli errori a parte quello di non dilungarsi troppo come faccio io quali sono gli errori da non fare da parte dei giovani lavoratori Sandro Caporale Manager Italia grazie ah per la telecamera sono Sandro Caporale sono Vice Presidente di Manager Italia Afriuli Venezia Giunlia come ha ricordato Daniele D'Amele e l'associazione dei dirigenti commercio ancora più in là devo proprio mettermi al centro ma la domanda le domande che sono state fatte sono sufficientemente complicate non esiste una ricetta per così in assoluto per dire non fai questi errori oppure l'azienda come deve comportarsi io ho avuto la fortuna di di entrare in una organizzazione dove sono entrato impiegato sono uscito direttore e dirigente da per tanto tempo posso dire avendo fatto colloqui avendo anche visto tante persone inserirsi e qui è stato ben ricordato dai colleghi dirigenti i comportamenti devono essere reciproci come è stato già detto già da quando ti presenti meno che io quando facevo i colloqui devo dire che nei primi sette secondi che uno entrava nel mio ufficio avevo già deciso se era una persona interessante o meno da come era vestito come era taglio dei cappelli da quello che era la prima impressione poi chiaro se parli con uno vedi che ha capito dov'è ha capito con chi sta parlando ha capito che cosa vuole vedi se è appassionato se ha intenzione se ha qualcosa che può dare e il più delle volte devo dire non mi sono sbagliato prima impressione te la giochi veramente in pochi secondi e sulla capacità poi di dimostrare interesse voglio dire una cosa che valsa per me valsa anche per posso dire per i miei figli se una cosa la vuoi la ottieni devi volerla fortemente devi mettere in gioco le tue capacità come è stato detto bisogna studiare bisogna essere bravi non sufficientemente bravi bisogna essere i migliori se sei il migliore e vuoi una cosa la ottieni l'azienda da parte sua per creare un buon clima una buona relazione c'è un insieme ci vuole un lavoro enorme dalla formazione formazione per chi per chi guida per chi dirige ma anche sapendo raccogliere le persone tenerle assieme farle sentire farle sentire a proprio agio rubo ancora un attimo una delle cose che è stata fra le domande è stata quella che errori non faresti nella tua carriera oppure che cosa cambieresti da quello che ho fatto o meno una cosa la voglio dire che riguarda il sottoscritto non cambierei niente eccetto il fatto che avendo fatto 40 anni in un'azienda ricordo entrato da impiegato ultimo impiegato a uscirne direttore dirigente magari come è stato detto che ci si adagia ci si avvolge ci si fa coinvolgere qualche volta bisogna anche avere il coraggio di dire ma colgo l'opportunità cambio e forse sarei salito molto più velocemente anche se a 25 anni ero quadro 40 dirigente e 47 direttore volendo crescere velocemente bisogna avere il coraggio di cambiare di accettare delle sfide e mettersi in gioco grazie bene prima di arrivare alla conclusione con l'intervento finale della dirigente scolastica Daria Parma voglio aggiungere rispetto agli errori da non compiere state veramente molto molto attenti si è parlato prima di intelligenza artificiale di nuovi media di tutti quegli aspetti riferiti alla rete all'online io vi invito a stare molto attenti a quello che pubblicate in rete a quello che pubblicate online purtroppo quello che si pubblica in rete anche se lo cancello un secondo dopo si appiccica immediatamente e da altre parti con motori di ricerca si rimane e si può ripescare chi fa le selezioni del personale oggi di ormai fa un'analisi molto approfondita su quello che il candidato o la candidata pubblica o ha pubblicato nel corso della sua vita anche da giovane in rete ci sono stati casi in cui qualcuno ha pubblicato lo sballo l'ubriacatura propria e di altre persone e quello gli è valso un posto di lavoro non è stato assunto a seguito di quel tipo di aspetto quel tipo di comportamento e soprattutto l'esibizione di quel comportamento ovvero averlo pubblicato ora è del tutto evidente che è bene evitare sballo ubriacature ci sono tanti altri tanti altri modi per divertirsi forme per divertirsi un'infinità non occorre andare a quei livelli quelli sono da evitare assolutamente cerchiamo però di non pubblicare anche cose che possono essere controproducenti la libertà di espressione deve esserci e deve essere al 100% io posso scrivere al termine per esempio di un incontro come questo che non mi è piaciuto che non si è sviluppato bene e fare delle critiche è correttissimo è possibilissimo nessun problema ma dire faccio l'esempio su di me che la persona che ha condotto l'incontro è un cretino è un deficiente o ancora peggio eccetera questo non va bene dite che non avete condiviso come ho portato avanti l'incontro che non sono stato capace quelli sono giudizi di merito che devono essere possono essere esposti e fatti l'offesa no quindi bisogna assolutamente prestare attenzione io ho fatto degli esempi limite degli esempi un po' forti però prestate attenzione a quello che fate in rete perché effettivamente c'è un giudizio pesante preponderante anche su questo da parte di chi seleziona il personale prego alla dirigente allora le conclusioni di questo nostro io mi auguro piacevole incontro guai a chi mi critica piacevole incontro che abbiamo fatto grazie e arrivederci prendo immeritatamente la parola in una riunione di imprenditori e di ragazzi allora sono come è stato detto una dirigente scolastica sono una dirigente dei piccoli quindi dalla scuola dell'infanzia a quella che si chiamava la scuola media sono qui perché apparteniamo all'ANP oltre a essere dirigenti e volevo portare un pochino la visione della scuola declinare quanto è stato ascoltato e detto nella visione educativa allora si è parlato innanzitutto di apprendimento continuo e di formazione che sposo con convinzione gli illustri relatori che abbiamo ascoltato hanno parlato di crescita professionale e anche personale come applicazione di un impegno costante e orientato ma anche questa mi piace moltissimo come concretizzazione di una visione la concretizzazione della visione e anche il finalizzare un impegno ha un obiettivo da raggiungere sono parte di quello che voi sicuramente conoscete cioè della cittadinanza attiva di cui si occupa l'educazione civica che ora è una materia trasversale che affronta la scuola ma c'è anche un altro aspetto che va messo in risalto quando parliamo di competenze parliamo delle otto competenze chiave del Consiglio d'Europa e tra queste una che è molto bella che è molto importante è la competenza imprenditoriale ho provato a cercare per essere più precisa competenze imprenditoriale e la capacità di concretizzare le idee per offrire valore aggiunto alla società analizzare in maniera critica e con un'ottica problem solving un'idea creativa dare vita a progetti che portino maggior benessere agli altri realizzandoli cooperando con gli altri quindi ci sono delle idee delle parole che secondo me sono importantissime avere delle idee e concretizzarle ma non solo per una crescita personale ma per offrire un benessere maggiore a tutti alla società avere una visione critica rispetto alle situazioni e affrontarli come problemi da risolvere cooperare l'idea di lavorare tutti insieme per realizzare qualcosa ecco questi mi sembrano gli obiettivi centrali che i relatori hanno espresso e che la scuola persegue ringrazio gli organizzatori e di questa magnifica occasione la dirigente che ci ha ospitato grazie ancora bene allora grazie veramente a tutti qui abbiamo le persone adulte che sono a disposizione così come fuori ricordo quello che ho detto prima il materiale di amici di Confindustria è disponibile nel banchetto fuori anche per eventuali associazioni adesioni a questa associazione grazie e buona giornata grazie ciao ciao Grazie a tutti